Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con un nuovo video dopo un periodo di assenza sul canale e non preoccupatevi, non ho intenzione di mollare questo progetto su YouTube non lo farò mai anche perché tantissime delle belle cose che mi sono successe sono state grazie a questo canale ovviamente negli ultimi mesi qualcosa deve essere successo se sono stato assente e sono successe cose molto importanti, la mia vita direi è quasi cambiata in questo video vi spiegherò quindi cosa è successo, quali progetti sto lavorando in questo momento qual è la nuova avventura che ho deciso di intraprendere e ovviamente come il mio solito fare portare qualche riflessione il primo cambiamento come vedete dallo sfondo non è un green screen ma sono a San Francisco, non sono in Italia in un momento sono qui, sto lavorando su un progetto qui, adesso vi spiegherò tutto, non preoccupatevi ovviamente per chi mi segue sul canale avete seguito un po' tutto il mio percorso dall'inizio sia professionale che accademico, mi avete visto affrontare i primi esami concentrarmi su come effettivamente ottimizzare il metodo di studio a Ca' Fosca all'Università Pubblica di Venezia per poi andare, la mia prima esperienza significativa all'estero quindi a Parigi, in Erasmus, all'ESEC Business School per poi tornare a lavorare in consulenza a Milano e partire in Svizzera, San Gallen e da là poi Londra insomma anche Chicago più di recente ora, il mio percorso di studi ragazzi sta avvolgendo al termine perché ho finito tutti gli esami del master che sono la parte sostanziosa insomma di questo programma di studio la tesi in questo momento devo solo rifinirla, sono gli ultimi step della tesi che però è una cosa che si fa completamente da remoto e è meno importante della tesi magistrale che magari c'è in Italia quindi sì, non è ufficialmente chiuso ma praticamente sì il mio percorso di studi e quindi anche con San Gallen chiaramente come ho detto anche nel mio discorso di laurea triennale potete recuperarlo nel canale o lo linko qui nel video io penso che uno dei privilegi più grandi che una persona col proprio sudore, la propria ambizione, la giusta pianificazione si possa garantire, possa conquistare e si possa meditare anche è il privilegio di scegliere cosa fare della propria vita dopo l'università o comunque dopo il proprio percorso formativo è un privilegio enorme perché nello scenario, nel mercato del lavoro di oggi che non è ai massimi storici, tantissime persone sono costrette a fare lavori che magari non sono inerenti ai propri percorsi di studio sono costrette a comunque andare a prendere non i lavori che vorrebbero ma quelli che gli vengono proposti o comunque a sparare nel mucchio e vedere tra virgolette cosa va a segno e cosa non va a segno e scegliere di conseguenza ora questa è la normalità, anzi è già un privilegio trovare una qualunque forma di lavoro ripeto soprattutto nella situazione attuale che è diversa da magari, parlo poi gli studenti di economia noi viviamo ancora l'aip di mercato del lavoro delle consulenze, investment banking, bit tech del periodo post covid o del covid dove come dico sempre le aziende magari si compravano con gli sconti quindi tante attività di M&A, tante attività di consulenza eccetera ora per essere nella posizione di poter effettivamente scegliere quindi guardarsi dentro, analizzarsi, capire cosa si vuole veramente fare cosa si è bravi a fare e seguire quel criterio dell'Ikigai, il famoso criterio dell'Ikigai e andare a scegliere dove andare a finire ci vuole anche fortuna sicuramente però io penso che sono stato sia fortunato che lungimirante tra virgolette sono sempre stato molto spaventato del non ritrovarmi in questa posizione e di conseguenza ho sempre pianificato tutto l'avete visto sul canale, tutti i consigli che ho sempre dato ho costruito anche Polo per questo per ripercorrere un po' anche tutte le strategie che ho utilizzato io negli anni per pianificare e assicurarmi che ogni step del mio percorso fosse al posto giusto, al momento giusto e quindi con l'inchiudersi di questo percorso di studio ricco di esperienze mi sono trovato davanti alla fatidica scelta cosa fare dopo ufficialmente? cioè ora si entra nel mondo dei grandi e non si è più nella fase esplorativa bisogna tra virgolette anche un po' etichettarsi perché si smetti di essere studente è comodo avere lo stato da studente perché quando sei studente può essere tutto e niente e poi devi iniziare a affrontare la società e identificarti anche con un'identità professionale non in tutti gli ambiti nella vita ma gran parte della tua giornata all'inizio soprattutto sarà, coinciderà con il tuo lavoro quindi io cosa avevo come opzioni? ho fatto l'esperienza in Google quindi sono stato anche contattato dall'HR successivamente per un eventuale graduate program quindi avevo quell'opzione nell'headquarter europeo di Google avevo un'opzione in Svizzera più su private equity che forse era il percorso più naturale in base al percorso che avevo scelto e anche quello che io mi immaginavo quando ho scelto San Gallen poi avevo la possibilità di fare qualcosa di un po' più esotico magari tra virgolette con Lunalex a Londra e poi chiaramente c'era il percorso imprenditoriale che tra virgolette rendendomene conto ma neanche troppo avevo già iniziato tanto tempo fa in Italia con prima le associazioni studentesche da membro, poi da fondatore poi il mio canale YouTube che in un certo senso è comunque sempre un progetto imprenditoriale perché chiaramente c'è un riscontro economico una forza creativa importante e chiaramente è un asset a tutti gli effetti che si costruisce nel tempo e poi con Argo il primo progetto forse veramente imprenditoriale poi con Polo e poi con altre cose insomma quindi queste erano le opzioni già da qui mi sono trovato dopo aver provato un po' tutto dopo aver assaggiato un po' tutto M&A, Consulenza, Big Tech, Private Equity eccetera che effettivamente avevo un'idea di cosa le opzioni da fuori volessero dire nel concreto quindi non avevo più quel desiderio di esplorare di capire se qualcosa mi piaceva o meno avevo anche idea di cosa io sono bravo a fare cosa mi piace fare e pensando a tutte le esperienze cosa mi rende più felice, soddisfatto quindi come sapete sul canale ho sempre parlato di un'inclinazione all'imprenditoria a fare qualcosa di mio la building sensation la chiamata ogni tanto proprio quell'idea di mettersi là a craftare qualcosa che è tuo prima un'idea in testa poi ovviamente devi fare tutta la parte dell'execution e magari vedere le altre persone utilizzare la tua cosa questa è una cosa che ho già provato quando ho creato il mio brand di abbigliamento alle superiori e proprio quella sensazione di vedere le persone con la mia maglietta mi è rimasta sempre vivida in testa anche quando poi l'ho ritrovata facendo i miei video di Youtube e sentivo che le altre persone li guardavano quindi quella cosa lì che non ha nulla a che vedere con l'aspetto economico ha proprio un aspetto forse più di identità di realizzazione personale e ovviamente ci sono mille tipi di personalità diverse però penso che avendo questo chiaro in testa che quello è quello che mi piace fare l'idea era o faccio qualche anno in azienda io ho di queste grandi multinazionali mi faccio le ossa o tento subito che è forse la cosa un po' più rischiosa e già ero giunto forse alla conclusione di qualche mese fa parlo di 6 magari 7 mesi fa che volevo tentare subito perché quando si ha momentum è inutile sprecarlo poi già qui vedete ragazzi come è importante sia avere un piano perché come quando ho scelto St. Gallen il piano era andare in Svizzera stare in Svizzera e avere un piano mi permette di fare progresso verso un obiettivo e sicuramente il progresso è una cosa sempre positiva però è anche sempre importante rimanere flessibili come quando ho scelto St. Gallen nel posto di LSI perché ho capito che M&A consulenza non era per me come poi di nuovo adesso ho capito che forse è il momento di lanciarsi subito e quindi già quindi qualche mese fa mi sono reso conto di voler buttarmi nel mondo più dell'imprenditoria da subito e io poi penso ragazzi che nel fare le cose voi anche se siete confusi magari non avete le idee chiare su cosa vi piace fare lo manifestate inevitabilmente quello che vi piace fare perché naturalmente tendete nel finire a parlare di certi argomenti ad affigliarvi a determinate persone a guardarvi video su youtube o cercare cose su internet su argomenti che vi interessano che magari nella vostra testa sono no questo è il mio hobby una cosa che mi interessa ma non farò mai e poi c'è il mio lavoro che devo prendere seriamente però in realtà state già manifestando che una cosa vi piace e un'altra vi sembra forse la cosa più giusta da fare ma non è che è quella cosa che vi piace davvero siete appassionati e sentite vostra e ovviamente io questa cosa l'ho sempre manifestata da quando ero piccolo questa inclinazione e appunto con il mio privilegio come dicevo prima di poter scegliere cosa fare ho deciso di scommettere subito su questa sensazione è successo che come avete visto negli scorsi video ho conosciuto Andrea Andrea Debe si chiede il suo soprannome si chiama Andrea Debe Rardinis l'avete visto è un ragazzo che ha studiato a Yale abbiamo fatto i video insieme a Yale i video sulla start up i video a Sequoia National Park e lui è un ragazzo italiano che come me ha studiato economia e poi è venuto in America lui a fare Yale a lavorare a Yale noi ci conoscevamo da prima quando sono andato a visitarlo a Yale durante il mio periodo qui in America per l'exchange come avete visto nel video ho conosciuto i suoi co-founder perché Andrea e altri due co-founder Sam e Asia stavano lavorando a un progetto una start up quindi qui in America io avevo le mie idee a quel punto pensavo già di tornare in Italia a fare dei progetti in Italia però davvero ragazzi quando ho realizzato l'idea su cui questi ragazzi stavano lavorando la qualità del team quindi Sam, Maria, Andrea quanto ci sono trovati bene insieme sono rimasto come qualcosa cliccato no? ovviamente nella mia testa c'era fuori discussione mollare tutto oppure che loro mi avrebbero integrava quindi nella mia testa era semplicemente una cosa di cui ero affascinato poi è successo che abbiamo lavorato qualche settimana insieme e loro mi hanno proposto andare a Los Angeles a lavorare insieme a loro ma for fun durante l'estate completamente gratuitamente giusto? e io ero talmente innamorato dell'idea della start up talmente innamorato del team che ho detto sì facciamolo cioè non ho fatto l'intership da Antler ho detto andiamo questa è un'opportunità che non mi capita più quindi sono andato e comunque ho passato questo periodo a Los Angeles con loro ovviamente senza nessun rapporto di lavoro semplicemente io ero là insieme a Los Angeles a dare supporto in quanto affascinato dall'idea dopo questo periodo insieme in America è successo che mi hanno fatto un'offerta anche loro si sono trovati molto bene con me per diventare co-founder quindi a tutti gli effetti diventare come uno di loro co-fondatore di questa start up ovviamente con equity quindi missioni e innovazioni eccetera in questo caso si è presentato un'opportunità completamente fuori da ogni piano che io avevo in testa ho avuto questa offerta ho avuto questa opportunità ho dovuto calibrare mille cose ma alla fine l'ho accettata per quello che adesso sono qui l'ho accettata quindi sono diventato co-founder di una start up una start up incorporata in America che allora avevano già resato un pre-seed da un fondo di venture capital da un ottimo investitore Iso si tratta comunque di risare il seed round qualcosa di molto più significativo insomma per scalare e quindi adesso ovviamente la challenge vera è raccogliere 2 milioni di dollari per scalare però quello che ci tengo a dire quindi long story short ho preso questa opportunità questo progetto su cui sono adesso ma sono due riflessioni la prima è che quello che mi ha aiutato a decidere è che un'opportunità come questa è una cosiddetta opportunità asimmetrica dove l'upside è estremamente più grande del potential downside io penso che chiunque sia ambizioso non debba mai in nessun caso lasciarsi sfuggire di mano un'opportunità asimmetrica soprattutto tutte quelle scelte che sono reversibili non sono veramente rischiose perché se questo progetto va male cosa che io non credo però se questo progetto andrà male non è che tutte quelle porte che avevo prima si chiudono non è una situazione di out out il contrario invece si se non prendo questa opportunità adesso le altre porte sono aperte però questa si chiude per sempre quindi cogliete sempre le opportunità asimmetriche quando vi si presentano secondo me e la seconda cosa è che ovviamente come un mestiere fare startup fare impresa costruire nuovi progetti ha bisogno di richiede un set di competenze una mentalità un modo di pensare che è diverso per ogni settore e se c'è la possibilità di farlo e di giocare a un livello alto come può essere in America nel mercato americano con gli investitori americani con dei co-founder che vengono da un Ivy League cioè questo livello di qualità anche se poi magari l'impresa finale non sarà in America sarà in Italia o da altre parti ha senso iniziare subito a raccogliere questa cassetta degli attrezzi essere super contenti anche solo in termini di learning e di opportunità perché appunto appena si si rende conto di cosa ci vuole fare nella vita bisogna fare double down su quelle cose cercare nel primo periodo della vita di massimizzare le proprie competenze i propri network i propri contatti e effettivamente lo ski set necessario per andare in quella direzione poi magari l'aspetto economico i soldi sono una cosa che viene molto dopo in generale anche tra un'esperienza che è costosa a fare adesso perché magari bisogna prendersi un finanziamento per andare a studiare all'estero oppure fare dei salti mortali vivendo con uno stipendio da stagista risicato ma in una meta più lontana dove il costo della vita è più alto ecco quelle sono cose che non tutti possono permettersi di fare chi può permetterselo di fare anche se ciò comporta fare una vita magari più più stretta secondo me è un investimento che vale sempre la pena proprio perché sono opportunità simmetriche e tra 30 anni 40 anni è quando sarà magari il momento effettivamente di fare cash out di guardare i soldi avere 1000 euro in più 2000 euro in più risparmiati ci faranno magari ridere però avere quelle esperienze in più sono quelle che magari ci fanno arrivare alla situazione in cui ci avrebbero fatto ridere quei soldi risparmiati quindi questi sono stati un po' i miei ragionamenti sul canale ora non so con che cadenza però porterò dei video in aggiornamento su questo progetto al momento siamo ancora in start mode non posso rivelare di cosa si occupa la start up questo non sarà per sempre quindi arriverà un video dove vi spiegherò tutto vi rivelerò tutto verrà reso pubblico prima o poi però è un progetto ragazzi che veramente quando ho capito non c'erano tanti dubbi a rinunciare a opportunità come quelle che vi ho menzionato prima ragazzi per questo video aggiornamento è tutto questo è un video più personale però è il mio canale ci tergo ad aggiornarvi voi che mi avete seguito dall'inizio e ragazzi se vi è piaciuto se avete domande lasciate un commento mi piace iscrivetevi al canale come al solito ci vediamo a un prossimo video